Il Tribunale Civile dell'Aquila ha riconosciuto agli usi civici di Preturo un importante risarcimento per l'occupazione da ben 42 anni di una parte di un loro terreno attualmente occupato dal carcere alle costarelle di Preturo. Una sentenza che inchioda il demanio a dover risarcire con circa un milione di euro gli usi civici per l'occupazione per loro abusiva e anche per il giudice a questo punto del terreno, somme alle quali vanno aggiunti vari interessi. Una soddisfazione solo a metà perché tutta la vicenda deve avere ancora una risoluzione definitiva. Sono 45 anni che stiamo cercando di risolvere questa vicenda e per adesso abbiamo risolto semplicemente il caso dell'occupazione abusiva temporanea e quindi un risarcimento per l'occupazione provvisoria. Quindi non so quant'altro tempo ci vorrà per risolvere l'intera vicenda. È una vicenda che ha interessato il commissario degli usi civici, ha interessato il TAR, Abruzzo, ha interessato il Consiglio di Stato, ha interessato il Tribunale Civile. Il Tribunale Civile con quest'ultima sentenza recente ha riconosciuto che è dovuto un risarcimento d'anni. Di che parliamo? Di che cifra parliamo se si può chiedere? Guarda è difficile perché la somma si aggira intorno a un milione di Euro, la somma come occupazione, però sono da calcolare interessi dell'82, sono rivalutazione e determinerà, se non si risolve altro che questa sentenza, che l'Agenzia dovrà per ogni anno di occupazione versare una somma abbastanza considerevole. Ci soddisfa in parte per quanto riguarda il riconoscimento dell'occupazione abusiva, ci dà una grossa mano perché inchioda il demanio alla risoluzione definitiva della vicenda.